Prima questione, democrazia e diritti sono prodotti della secolarizzazione. È difficile scacciare l'impressione, almeno nella nostra tradizione culturale occidentale, che la democrazia abbia qualcosa a che fare con la desacralizzazione del potere. Penso alla democrazia classica, in fondo mi potrei ricollegare ad alcune delle cose che Ronchi diceva ieri. Un esempio soltanto, Protagora, le norme etico-giuridiche, dal suo punto di vista, sono stabilite di comune accordo fra i consociati e si giunge alla verità in modo non dissimile da come si decide nell'Assemblea. Sembrerebbe la controparte filosofica del metodo democratico, la concezione della verità, di Protagora. E d'altra parte il rapporto fra democrazia moderna e secolarizzazione appare altrettanto stretto. Abbiamo parlato molto in stamani del rapporto fra democrazia e Stato moderno. Lo Stato moderno è un'organizzazione distinta da quella o da quelle della Chiesa o delle Chiese, opera attraverso funzionari laici, non dipende da un'investitura divina. Considerazioni analoghe si potrebbero fare quando parliamo di diritti. Certo, la teologia ha avuto un ruolo, il diritto canonico e la teologia hanno avuto un ruolo estremamente importante nell'elaborazione della nozione di diritto soggettivo, di diritti naturali, di diritti fondamentali. Tuttavia, se pensate a Grozio, se pensate alla logica dell'argomentazione di Hobbes, nel giusnaturalismo moderno lo Stato viene legittimato attraverso i diritti naturali esattamente in quanto è possibile argomentarne la validità, sarebbe possibile argomentarne la validità anche se Dio non esistesse. Questa è esattamente la logica dell'argomentazione obbesiana. E d'altra parte, una spia diversa. In Hobbes i diritti servono esattamente per legittimare il potere assoluto dello Stato, per legittimarne la rinuncia. In altri contesti, per esempio nella storia, nella genealogia della nozione del diritto di resistenza, c'è un'origine teologica nel dovere di resistere al sovrano infedele o eretico. E d'altra parte, in Locke, i diritti assumono un ruolo di limite del potere statale ma trovano di nuovo una fondazione nell'essere gli individui umani creature di Dio e sua proprietà. Insomma, verrebbe da dire, se non emerga fra Hobbes e Locke, in nuce la questione poi posta da Ernst Wolfgang Böckentürde, lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che esso stesso non è in grado di garantire. Seconda questione, democrazia e diritti sono un affare dell'Occidente cristiano? Nella classica ricostruzione di Weber la secolarizzazione e il disincanto sono una peculiarità dell'Occidente moderno e paradossalmente proprio il cristianesimo nella sua storia, nella sua trasformazione, ha contribuito a questi processi. Ci sono radici cristiane della democrazia e dei diritti, l'idea dell'uguaglianza dei figli di Dio, che però si trova in realtà anche in altre tradizioni religiose, la vicenda della tradizione cattolica, forse per certi aspetti, con la separazione e l'indipendenza fra Stato e Chiesa, oppure viceversa, l'origine, come molti hanno sostenuto da Georg Jelinek a Norberto Bobbio, l'origine religiosa per certi contesti, in particolare nella storia del protestantesimo dei diritti e poi della democrazia. Ma si tratta di radici religiose della libertà e della democrazia o piuttosto di rivendicazioni contro l'autorità religiosa costituita, se non contro la religione. E d'altra parte c'è un'altra storia. Habermas nei suoi scritti sulla società postsecolare ha rilevato che il discorso filosofico della modernità è stato nutrito da immagini ed idee bibliche. Emerge un'altra storia, una storia forse anche di sconfitte per molti aspetti, dall'organizzazione della prima comunità cristiana, alle prime esperienze degli ordini mendicanti, da figure come Thomas Muntz o Bartolomé de la Scasas, fino a tante figure di profeti, teologi contemporanei. E d'altra parte Chiesa traduce il greco ecclesia, cioè esattamente la principale istituzione della democrazia antica. Ma allora, terza questione, ci sono altre radici culturali della democrazia? Penso a molti scritti di Amartya Sen, che si è espresso in maniera forte contro l'idea che la libertà e i diritti siano un'invenzione dell'Occidente. Ha insistito sulle radici globali della democrazia. sull'esigenza di superare una concezione ristretta della democrazia, che ridurrebbe alle procedure delle democrazie rappresentative contemporanee. E parla dell'importanza del consenso nello Stato, usa questa espressione africano tradizionale, oppure parla di imperatori indiani, come Asoka del III secolo a.C. o Akbar del XVI d.C., impegnati per difendere la tolleranza e il confronto fra le culture. Oppure alcuni intellettuali islamici vedono nella sura, nella consultazione, l'autentica radice della democrazia, nella consultazione dei fedeli. E tuttavia, penso fra l'altro ad alcune delle cose che diceva fra l'altro Ciliberto, è difficile non collegare la democrazia alla pluralità, alla partecipazione attiva, alla divisione in gruppi, al conflitto. E d'altra parte i diritti umani sono diritti, sono qualcosa di collegato al potere di scelta attribuito ai titolari, alla possibilità di affermare rivendicazioni. E allora non c'è il rischio di smarrire la specificità della democrazia e dei diritti in questa ricerca di loro radici globali. Ancora, cosa resta della globalizzazione? Il presidente della Commissione elettorale tunisina, quella che sta riscrivendo le regole costituzionali della Tunisia, Yad Ben Ashur, un importantissimo giurista, finora piuttosto emarginato, come potete immaginare dal regime di Belanli, ha sostenuto che si è posto la domanda radicale si può essere credenti e democratici e ha detto che questo è possibile, ma occorre che i fedeli non confondano la loro qualità di cittadini con la loro qualità di credenti. E questo implica, dice Ben Ashur, l'interiorizzazione della religione e il riconoscimento reciproco delle diverse confessioni. La democrazia significa, infatti, la fine dei valori assoluti, compresi i propri, scrive il giurista tunisino. Ma, verrebbe da chiedersi, è possibile interiorizzare una religione quando sono in questione l'identità del soggetto, il senso della sua esistenza, i legami sociali? Se un individuo è interamente proiettato in una dimensione sacra o in una dimensione trascendente, trascendente è in grado di scendere la sua condizione di cittadino da quella di fedele sottomesso a Dio? Insomma, più che un problema di differenti radici culturali e religiose, forse la questione principale, per così dire, è quella dell'urbanizzazione delle religioni in seguito alla differenziazione funzionale, della riduzione della religione a uno specifico sottosistema sociale, ad una dimensione privata o comunque non totalizzante. Ma questo, in fondo, non significa che si attribuisce minore peso alla dimensione religiosa? Non significa, in qualche modo, che ci si crede un po' meno? E allora, quanto è feconda la classica categoria di secolarizzazione? Quanto non si applica soltanto all'Europa, anche a differenza dell'Occidente interamente esteso, tenendo conto della situazione molto diversa per molti aspetti degli Stati Uniti? Oppure, non sarà che, piuttosto che abbandonare la categoria di secolarizzazione, avremmo bisogno di una nuova concezione, forse post-weberiana, certamente non eurocentrica, di secolarizzazione? E, d'altra parte, nel contemporaneo ritorno della religione, tutto è autentico? Non è una domanda retorica, è una domanda seria, perché, per esempio, si pone Charles Taylor nel suo monumentale L'età secolare. Infine, ultima domanda, come si pone la questione del rapporto fra cultura, religione, diritti, democrazia, nelle società multiculturali? Una delle dimensioni della costellazione post-secolare è l'inclusione in Europa, attraverso l'immigrazione, per così dire, di pezzi di mondo non secolarizzato, di individui per i quali la religione ha un'importanza molto notevole nella propria identità. E questo scatena anche questioni immediatamente politiche, penso a quella del velo in Francia, su cui probabilmente ci dirà qualcosa Anna Elisabetta Galleotti. D'altra parte, molte volte, nel dibattito contemporaneo, il tema religioso sembra esprimere la vecchia logica dell'instrumento un regni. In alcuni casi, penso alla parabola di movimenti xenofobi a lungo ispirati ad una iconografia pagana e recentemente born again, a loro volta, l'identità cristiana, in alcuni casi collegata alle pulsioni identitarie ed esclusive e all'agitazione dello scontro di civiltà essenzialmente in funzione anti-islamica. in che modo i fondamentalismi e i processi di desecolarizzazione interagiscono con la politica multiculturalista del riconoscimento? Le tensioni fra tutela dei singoli e tutela della comunità, fra diritti individuali e diritti collettivi, diritti di libertà e diritti culturali, diritti delle minoranze e diritti dei soggetti interni alle minoranze, a cominciare dalle donne, ne risultano aggravate tanto da compromettere le soluzioni e i compromessi che si erano faticosamente elaborati con il riconoscimento